Sui ghetti noi siamo in attesa che la regione ci faccia capire cosa intende fare. Riscontriamo che quello che avevamo denunciato purtroppo si è tramutato in realtà, che alla chiusura del ghetto di Rignano, cosiddetto di Rignano, si fossero creati altri ghetti. Non abbiamo più il gran ghetto di Rignano, abbiamo il ghetto alle spalle del Cara, dove prima vi erano mille persone, oggi ce ne stanno cinquemila. La tecnica del mettere la polvere sotto il tappeto io penso che non aiuti a nessuno. I problemi vanno affrontati, vanno studiati, vanno risolti. Buttare la polvere sotto il tappeto serve solo a spostare in avanti un problema o a farci una lavata di faccia. Secondo lei perché i tavoli si sono interrotti? C'è stata una congiuntura negativa alla morte del dirigente Fumarulo, che era chi aveva in mano tutta la questione per quel che riguarda la regione, è stato ovviamente un atto traumatico che ha rallentato inevitabilmente dei percorsi concertativi che vi erano in atto. Però al netto di questo atto tragico il dato di fatto è che stiamo al 4 di luglio e che a giorni molto probabilmente si avvierà la fase di raccolta del pomodoro e che materialmente le persone continuano a stare nei ghetti. Con l'aggiunta che si sta provvedendo, si è detto che a settembre vi sarà lo sgombero del ghetto dei bulgari, la domanda, come si suol dire, nasce spontanea. Dove andranno queste persone? Che cosa succederà? Il vero dato di fatto è che in questo paese, non in Puglia, in Italia, non vi è una vera politica di accoglienza, non vi è una vera politica di integrazione e i migranti sono trattati come un problema e non come una risorsa.